Tutto il cuore d'oliva Il futuro... Allora, quanto tempo dedichiamo a immaginare durante il giorno? Questo è il centro dell'immaginazione Perché l'immaginazione può creare ricchezze Cosa hai immaginato nel 65 tu? Per essere ricco naturalmente, hai capito? Mi stai detto, beh io voglio un tariffo No, voglio fare qualcosa Immaginavi qualcosa? Immaginavo che il mondo mi piaceva intanto Cioè io ero una parte del mondo Quelli che sono a fabbrica Non è una scuola, non è un'accademia Non ha niente di accademico Ma è semplicemente un posto Vedete che posto incredibile Unico al mondo Come abbiamo pensato Ricordi? Non utilizzavano i soldi per la campagna Perché erano scandalosi Dicevano Quei soldi lì Luciano dicevano Facciamo un posto culturale Ebbene è stato fatto questo Tanto per un piccolo immaginazione Allora, vorrei chiarire che questo posto Sarà determinante parte integrante Della Unione Coro Venetone Qui si immagina E si immagina tutto Allora, tutti questi giovani Sono qui per immaginare Ricercare Nel mondo Della comunicazione moderna Raunica Grazie 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 Grazie